Ciao e benvenute ad una nuovissima puntata di Impact Girl. Io sono Cecilia Sardeo e il tema di oggi è come sempre molto attuale e interessante. Infatti tra l'altro è un tema che tocca soprattutto noi donne ma non solo molto da vicino. Parliamo infatti di come raggiungere il tanto desiderato equilibrio tra vita e lavoro in un mondo peraltro dove il confine fra questi due aspetti, se mai c'è stato, è sempre più sottile fino a quasi a confondersi. E faremo questo viaggio alla ricerca del nostro equilibrio tra vita e lavoro con l'aiuto di Martina Bianchi, Customer Engagement Manager per Lacoste. Ciao Martina e benvenuta. Ciao Cecilia, grazie. Tu Martina, come ben si vede se state guardando il video, hai raggiunto una posizione di grande responsabilità all'interno di una grossa azienda in giovanissima età e non per questo rinunci alle tue passioni. Quindi uno può dire beh quando si è giovani no alla fine magari si vive solo per il lavoro, io per tanti anni l'ho fatto devo dire e invece tu fin dall'inizio hai detto no io ho la passione per i viaggi e in effetti seguendo il tuo blog viaggi davvero in lungo e largo per il mondo e questo non ti ha impedito però appunto di crescere e non ti impedisce di continuare a crescere professionalmente. Ecco perché oggi ti ho invitato per condividere con noi una sorta di blueprint, una sorta di mappa di riferimento che hai creato per te stessa, per la tua vita e che possiamo in qualche modo prendere a riferimento, non mi piace dire replicare perché poi la vita di ciascuno di noi è diversa e dobbiamo adattare queste formule, ma qualcosa che ci dia una sorta di GPS per riuscire a fare carriera, che si parli di un lavoro all'interno di una grossa corporation oppure di un proprio lavoro imprenditoriale senza sacrificare la nostra vita, il tempo per noi. Da dove partiamo per trovare questo equilibrio? Allora intanto vorrei dire che per fortuna o purtroppo neanche per me è stato un percorso facile, all'inizio ero molto focalizzata sul lavoro, ho passato cinque lunghi anni in Vodafone dove ero molto molto assorbita dal mio lavoro, dai ritmi, dal fatto di non mollare mai e poi a un certo punto la vita, una malattia autoimmune che mi ha colpito e che mi ha detto basta così non puoi andare avanti, non vale la pena di rimetterci la propria salute semplicemente per il lavoro. Ti piace lavorare, è una cosa su cui metti il cuore, ma è importante, tu hai un mondo intorno a te e ci sono tantissime cose che mi piacciono fare tra cui appunto come dicevi viaggiare e io non volevo più rinunciare a quelle cose e quindi mi sono detta basta da oggi si cambia strada, mi sono trasferita a Parigi che è stato un grande cambiamento ed è stato un po' il coraggio di fare questa scelta di cambiare di colpo città, paese, lavoro, industrie che mi ha fatto un po' rimettere giustamente come dicevi tu un GPS nella giusta direzione e dire ok com'è che cambio questa cosa e devo dirti che ci sono tre cose principalmente che per me sono state importanti in questo cambiamento. La prima è il fermarmi a pensare che cosa è veramente importante per me, non è scontato ci vuole del tempo e ci vuole del tempo in continuazione per rifocalizzarsi e per ripensare a davvero che cosa è importante per noi. La seconda cosa è l'organizzazione, io sono un po' una fissata dell'organizzazione, è una cosa che forse mi viene anche un po' naturale però senza organizzazione siamo troppo stimolati da tutti i sensi e quindi perdiamo il GPS e perdiamo anche il tempo di quello che dobbiamo fare. E la terza cosa che forse è quella che è stata più difficile ma che veramente mi ha insegnato è stato accettare di cadere e non aver paura di rialzarsi e di cominciare a lottare. Bellissimo, questo ci dà sicuramente già tre cartelli che ci danno una direzione. Partiamo dal primo aspetto quindi il definire un po' che cosa è importante per noi, forse la cosa in assoluto più difficile perché spesso almeno quello che è capitato a me è stato fraintendere quello che era importante per me sovrapponendolo a quello che era importante per la società intorno a me, cosa ci si aspettava da quello che una ragazza della mia età con il mio titolo di studi e con non lo so quelle che erano le mie caratteristiche avrebbe dovuto fare. Quindi c'è qualcosa che fai visto che tra l'altro lo rifai questo esercizio di rifocalizzazione perché ovviamente poi anche diverse fasi della vita presumo abbiano poi insomma sempre diverse diverse priorità anche se alcune restano sempre invariate. C'è qualcosa che fai per riuscire a trovare quella chiarezza? Sì allora guarda è vero che non non ci sono ricette magiche ma non si può pensare che questa chiarezza arrivi da sola. Quando ero bambina speravo che mi venisse l'illuminazione sono cresciuta e so che così non è. Quindi ci sono alcune piccole cose che faccio. La prima e la più importante è prendere del tempo per sé nel silenzio nella calma per riflettere. È una cosa che io tendevo a non fare. Io dicevo di sì a tutto quello che mi veniva proposto e a tutti quelli che avevano bisogno di me in qualche modo che fosse il mio capo che fossero i miei genitori o che fossero i miei amici. Invece adesso prendo il tempo di restare a pensare e a focalizzarmi su quello che voglio. Degli esempi molto concreti una volta alla settimana la mia pausa pranzo la passo o in un parco se è la bella stagione o in un caffè da sola o in una chiesa in silenzio. L'unica cosa importante è che per quei 10 30 60 minuti il cellulare è offline. Stacco totalmente modalità aerea e penso a quello che per esempio sono state le cose importanti della mia settimana o della mia giornata e che cosa mi ha dato veramente piacere perché quello ti aiuta a ridirigere e a rimettere quell'aspetto lì. La seconda cosa molto che mi aiuta molto è parlare. Io ero una persona che faceva molta fatica a parlare dei suoi obiettivi, delle sue cadute, dei suoi problemi semplicemente e invece ho imparato a farlo. Chi mi ha insegnato veramente a farlo è stata una psicologa che mi segue da tre anni e contro cui all'inizio mi arrabbiavo tantissimo perché io parlavo parlavo e lei non mi diceva mai niente, non un consiglio, non un commento, niente. Io dicevo ma chissà cosa mi serve parlare così e spendere anche dei soldi e mi sono detta lo ripeterò davanti allo specchio. In realtà poi non si prende mai il tempo di farlo e non si fa nella stessa maniera. Quindi parlate, parlate con qualcuno, fate un percorso in cui vi sforzate a dire quelle cose che sono difficili per voi, faticose per voi, perché quando si parla con qualcun altro si ha una sorta di specchio davanti a sé e anche se l'altra persona non ci dice niente e magari non ci dà il consiglio migliore del mondo ma soltanto il fatto di dire a voce alta certe cose ci aiuta già a fare metà del percorso, ad affrontarle e quindi credo che questo sia una cosa molto importante per capire che cosa sono per noi le cose di valore. Bellissimo, quello che hai detto è molto significativo, mi tocca molto da vicino sia il primo aspetto, quindi la riscoperta del silenzio che è qualcosa che abbiamo dimenticato decisamente, quasi non lo conosciamo più il silenzio perché è continuamente riempito o da stimoli esterni oppure da qualcosa che cerchiamo noi, perché non ricordo chi diceva che il dramma più grande dell'uomo è l'incapacità di stare da solo seduto in una stanza, davvero non ricordo chi abbia detto questa frase ma è bellissima, mi ha sempre colpito molto. All'inizio dicevo ma che diavolo vuol dire non ne ho idea. Poi però quando ho cominciato a lavorare in un mondo dove come quello digitale gli stimoli sono incessanti, cioè davvero diventa pericoloso anche perché non ci accorgiamo di quell'abitudine automatica a riempire ogni vuoto che ci impedisce poi di prendere le distanze da quello che stiamo facendo, dal perché lo stiamo facendo. Quindi questo lo trovo tanto semplice quanto vorrei dire forse la chiave di volta perché tutto il resto poi abbia un senso e funzioni. La seconda cosa che invece hai nominato del parlare anche lì mi ci ritrovo tantissimo perché io non parlo molto, sono molto introversa di natura. Figuriamoci poi ad esempio ho una sorella che è all'opposto, lei parla parla molto. Anche io. Quindi ecco quindi è normale, non siamo anomale. Io ho trovato la risposta in diversi percorsi di coaching che ho fatto, sempre molto business, quindi dietro la scusa del business coach ho trovato anche qualcuno, proprio per non dovere in qualche modo ammettere a me stessa che avevo bisogno di parlare con qualcuno, però ecco con queste figure parlo anche di tutta una serie di aspetti che sono inevitabilmente legati anche alla mia vita personale perché le due cose come abbiamo accenato all'inizio sono veramente difficili da distinguere nettamente. Assolutamente. La seconda cosa che dicevi era invece organizzarsi, giusto? La seconda cosa è organizzarsi perché è vero che anche per trovare questi momenti di silenzio, di pausa, ci vuole un'organizzazione. Cerco di fare yoga una volta alla settimana in pausa pranzo e non sai quante volte hanno provato a mettermi delle riunioni sullo stesso orario, a farmelo saltare, a darmi delle urgenze, quindi se non si è organizzati non si riesce a fare tante di quelle cose e io spesso arrivo alla sera, spesso, per fortuna non spesso, ma ogni tanto arrivo alla sera e dico ma oggi che cosa ho fatto? E mi è volata via la giornata e credo che questo sia, mi succeda proprio in quei giorni in cui mi lascio sopraffare dalle cose. Un TED Talk che abbiamo condiviso prima di questo episodio mi ha molto colpito e faceva una equazione semplicissima. Ci sono 168 ore in una settimana, ne dormiamo se proprio siamo bravi 56 e ne lavoriamo se proprio siamo bravi 50. Chi lavora di più tendenzialmente non si rende conto che perde un sacco di tempo, però questo vuol dire che abbiamo ancora 60-70 ore a disposizione per fare quello che vogliamo fare. Certo è che se passiamo quelle 60-70 ore a stare su Instagram, a stare su Facebook, a stare stravaccati sul divano, alla fine quello che ci portiamo a casa è poco. Quindi il mio consiglio è pianificate, pianificate tutto, anche quell'ora di silenzio, anche il momento per pianificare la mia settimana è nella mia agenda. Può sembrare un po' troppo costruito, ma in realtà poi la qualità di quelle ore che io ho inserito in agenda è altissima perché mi permette veramente di o stare con gli amici, perché sono con gli amici e non cercare di stare con le persone che non sono lì in quel momento o fare le mie riunioni in maniera efficace al lavoro o prendere del tempo per me ma godendomi quel momento perché so che è meritato, che è pianificato e quindi che me lo posso permettere. Quindi io faccio questa cosa soprattutto per i viaggi come potete immaginarvi, faccio quello che chiamo il retro planning e mi fisso delle ore per trovare la meta. È una cosa bellissima trovare la meta, però se non è un minimo inquadrato nel tempo alla fine si rimanda sempre perché non è una di quelle cose urgenti. Ecco questo secondo me è un punto importante. Se lasciamo al caso la nostra pianificazione finisce sempre che facciamo solo le cose urgenti, però le cose urgenti sono veramente le cose più importanti, io non credo. Quindi per questo cerco di costruire. Poi è chiaro che ci sono dei casi in cui qualcuna di voi mi dirà ma io non riesco a pianificare perché il mio capo è un pazzo maniaco del lavoro, perché ho quattro figli che urlano tutto il giorno. Certo ci sono delle cose che non aiutano questa pianificazione, però ci sono anche dei trucchi per aiutarla. Per esempio io col mio vecchio capo che non aveva né orari né limiti cercavo di dargli io la pianificazione. Quindi andavo da lui e gli dicevo oggi facciamo questo e quest'altro, basta. Quando abbiamo fatto queste due cose la giornata è finita. Oppure quando mi chiamava a mezzanotte per rivedere dei business case gli dicevo guarda grazie, prendo il punto, domenica mattina alle nove lo affronto. Perché se no per lui era sempre l'urgenza e l'urgenza alla fine ci fa vivere male. La seconda cosa sulla quale io ho lavorato tanto e di nuovo si lega al parlare è parlare al mio capo delle cose che per me sono importanti. Vi faccio un esempio, quest'estate sono andata un mese in Namibia a fare volontariato in un ospedale. Ho passato il mese lì ed è vero che le priorità cambiano quando si è in un mondo un po' affatato e forse anche di cose un po' irreali, dove i veri bisogni sono giustamente un po' digitali, un po' non concreti, mentre lì il vero bisogno è mangiare e essere curati. E quindi sono tornata e ho detto sai che io voglio mettere questo in pratica, mettere nella mia vita un elemento di quello che ho vissuto durante tutto l'anno, perché se no me lo dimentico. Va a finire che dopo due mesi che sono tornata all'Africa la mia vita sarà come prima. Quindi ho deciso di iniziare a fare del volontariato qui a Parigi dove vivo, in un ristorante, io sono anche un amante della cucina e quindi ho deciso di fare volontariato in un ristorante solidale, quindi chiedo da mangiare a dei senza tetto o delle persone in difficoltà. È chiaro che se in un ristorante la cena viene servita alle 7 e mezza e quindi per preparare io devo essere lì alle 5 e mezza. Naturalmente non sono i miei orari normali, quello di uscire alle 5 e mezza, esco piuttosto fra le 8 e le 8 e mezza, quindi ho dovuto parlarne col mio capo perché è chiaro che sparire una volta alla settimana alle 5 poteva risultare complicato. Potevo farlo in due maniere, potevo inventarmi delle riunioni all'esterno dell'ufficio e sparire una volta alla settimana, oppure è stata questa la scelta che ho fatto e ne sono molto felice, parlarne col mio capo e dirgli guarda per me questa è una cosa importante, è una cosa di valore, questo non vuol dire che lavorerò meno, vuol dire che ripartirò le ore perse sugli altri giorni della settimana o la mattina presto, però io ci tengo a fare questa cosa e ti chiederai il permesso di uscire una volta alla settimana alle 5. E la sua risposta non solo è stata sì, ma è stata carissima, lavori più di 60 ore alla settimana invece che 40, se un giorno alla settimana esci alle 5 per una cosa così importante io ti sostengo al 100%. Ed è chiaro che quando si hanno questi tipi di risposte l'energia per pianificare, per mettere in priorità le cose che per noi veramente sono importanti è molto forti. E l'ultima cosa, l'ultimo piccolo consiglio di una cosa che io faccio tutti i giorni è quando finisco la giornata che naturalmente ho fatto, quando va bene, tre quarti della lista delle cose che dovevo fare e mi dico dai ne faccio ancora una, la domanda che mi faccio sempre è questa cosa qua può aspettare fino a domani mattina? È così urgente da dover prendere la mia serata, il mio aperitivo, la mia cena? Forse no, ci sono due volte in cui la risposta è sì, ma ci sono due volte in cui la risposta è no. E allora sapete cosa vi dico? Che la metto in priorità al mattino dopo, ma che chiudo il computer e vado a casa. Bellissimo, sei così pragmatica, così concreta, così pratica, veramente adoro ogni suggerimento che stai condividendo. Voglio riallacciarmi, prima di passare al terzo aspetto che hai nominato all'inizio, altrettanto importante, voglio riallacciarmi ad alcuni punti che hai nominato in questo secondo, seconda fase, la fase dell'organizzazione. Intanto al pianificare il riposo, nel senso siamo così abituati a pianificare, io sono una maniaca della pianificazione, sono tra l'altro una guerriera che si batte per la pianificazione, perché a mio avviso non è appunto una questione di costrizione, è una questione di distribuzione accorta del tempo, due cose molto diverse, quindi quello che può sembrare una prigione dall'esterno, perché uno dice oddio pianifichi fino al secondo la tua giornata, in realtà mi consente poi, nonostante le mille cose da fare, di finirla molto prima di altre persone che magari si sbrodolano proprio perché semplicemente non hanno una direzione e quindi cambiare proprio i connotati della pianificazione, non una prigione, bensì una forma che ti dà poi le chiavi per aprirla la prigione, che è la prigione del nono tempo. E poi il pianificare appunto il riposo, questa è una cosa che per esempio su cui io devo migliorare alla grande, perché il riposo a breve termine lo pianifico molto bene, ho il mio switch of time la sera, per cui non esiste che mi porto il lavoro fino a orari impensabili, cosa che facevo in passato, però è la classica, il classico periodo di vacanza in cui uno dice basta per tot giorni io non ci sono, tendo sempre a posticiparlo. Un po' e questo credo sia anche una dinamica diversa a seconda del tipo di lavoro che fai, un po' perché metto sempre davanti le priorità del team, un po' perché sono comunque sempre on the go, quindi è sempre difficile pianificare in anticipo. Però ricordo, le tue parole mi hanno proprio fatto ricordare un suggerimento che ricevetti non ricordo più da chi, sul fatto di come all'inizio dell'anno solare, quindi adesso siamo molto vicini perché stiamo registrando questa puntata verso fine anno, pianificare già i momenti di pausa, che siano un weekend, che siano 4 giorni, che siano una settimana, che siano un mese, quello che è già a inizio anno per tutto l'anno successivo, anche se può sembrare lontano mille miglia, non lo so se magari è la prima vacanza che ci vogliamo fare tre mesi dopo. Quindi questo credo sia, questo è un bel promemoria che mi porto a casa e che metto in pratica nella pianificazione di questo anno. Assolutamente, io faccio una cosa proprio a fine anno, con un'amica tutti i capodanni facciamo gli obiettivi dell'anno e a giugno facciamo un punto della situazione su questi obiettivi e sempre uno degli obiettivi è, almeno uno, è il momento di riposo chiave dell'anno. Quindi che cosa vogliamo fare, che cosa sono i nostri sogni, perché anche lì è importante che quei momenti siano un recupero, un ricarica energie, perché le nostre energie non sono infinite e alla fine se non prendiamo quei momenti rischiamo di, che tutto come hai detto bene, si sbrodoli, perché proprio ci mancano le nostre energie. Assolutamente, tra l'altro leggevo un libro, adesso non mi giro, anzi l'ho fatto, mi sono girata, vediamo se riesco a recuperarlo. Questo è un libro, non so se l'hai letto, è Deep Work di Cal Newport, che sto facendo probabilmente più pubblicità io a questo libro di quanto non sia stato fatto dal marketing tradizionale, ma perché riporta proprio studi scientifici secondo i quali, a parte appunto che non è nel primo, né sarà l'ultimo a parlarne, però lo fa in maniera molto concreta e parla di come questo continuo riempire il tempo che abbiamo attraverso questi input costanti che ci arrivano dall'esterno, ma anche non darci mai un limite, per cui tu hai parlato prima del fare stasera qualcosa giusto per prenderci avanti per domani, per giocare d'anticipo. In realtà senza accorgercene lo facciamo molto meno bene, perché stiamo comunque esaurendo la tannica di energia che va comunque riempita, ha bisogno di un periodo di incubazione, ma miniamo anche le nostre capacità di effettiva concentrazione. Cioè la cosa che mi ha colpito di più è che lui dice nel momento in cui noi ci abituiamo proprio a non staccare mai e ad avere sempre continuamente questo stimolo che arriva, anche quando finalmente abbiamo un momento, magari non lo so, finalmente ci siamo presi quella benedetta vacanza o finalmente siamo riusciti a dedicare del tempo ininterrotto a qualcosa, alla scrittura di quel libro che pensavamo da anni, non riusciamo a concentrarci, perché ormai siamo troppo abituati fisiologicamente a cercare la distrazione e questa cosa mi ha colpito tantissimo. Assolutamente, so che tu pratichi yoga, alla fine di ogni sessione di yoga con la nostra prof, facciamo il classico rilassamento e ad un certo punto ti ci dice adesso cercate l'immobilità mentale e fisica. Allora sulla immobilità fisica siamo tutti bravissimi, ma sull'immobilità mentale io ci ho messo più di un anno ad arrivare a fare 4-5 minuti di immobilità mentale. È una cosa difficilissima, ma credo che quel piccolo esercizio mi abbia aiutato molto poi a giustamente trovare quel vuoto che mi permette di essere concentrata su una sola cosa alla volta, quindi capisco molto bene e so anche cos'è stata la fatica per me di riuscire a raggiungerlo, perché effettivamente siamo troppo stimolati. Sì, assolutamente, è un allenamento, quindi anche lì il mio suggerimento personale non so se ti ci ritrovi, ma è quello di non abbatterci se non ci riusciamo subito, proviamoci e appunto, come dicevi tu, ci sono fasi della nostra vita dove magari non dipende da noi la nostra possibilità di gestione del tempo, però anche in quel caso cerchiamo di magari sviluppare una mini forma di pianificazione, che non deve essere una pianificazione di tutto, ma di quello che è sotto il nostro controllo. Esatto, è per questo che parlavo dei viaggi, perché io ho proprio iniziato facendolo con i viaggi, nel momento in cui lavoravo in maniera eccessiva, sapevo che il weekend e il viaggio erano il mio momento su cui potevo avere il controllo e quello mi ha dato tanta energia, tanta consapevolezza del fatto che potevo farlo e poi sono andata sulle cose più difficili. Tra l'altro, parlando di cose difficili, l'ultimo punto che hai nominato e cioè l'essere autentici e quindi il dire la verità che non è sempre facile, soprattutto quando ci sentiamo magari in difetto, perché stiamo chiedendo qualcosa che esce un po' da quella che potrebbe essere l'aspettativa del nostro capo, del nostro manager, del nostro collega, insomma a seconda di quella che è la situazione che stiamo vivendo. Mi è piaciuto molto il fatto di essere, di aver detto che io ci provo e dico la verità, anche perché credo di poter dire che forse è stato anche quella forma di autenticità che poi ti è tornata indietro, no? Perché poi si avverte. Assolutamente, assolutamente. Io credo che sono una gran fan della verità ad ogni costo, che a volte è molto difficile e a volte ci mette in posizioni scomode, ma come dicevo prima, anche quando parliamo dei nostri difficoltà, dei nostri problemi e ci diciamo chissà come la persona davanti a noi prenderà questa cosa, mi guarderà con pietà, mi guarderà con giudizio. In realtà no, ci rende più umani di fronte agli altri, ci rende più veri e ci rende più anche raggiungibili. Spesso questa costruzione che abbiamo intorno a noi fa una sorta di mura del castello che non permettono agli altri di avvicinarci e invece una cosa che ho imparato è che tutte le volte che metto sul tavolo una difficoltà, un problema davanti ad un'altra persona, invece che allontanarla la avvicino e anzi la persona spesso si sente coinvolta nel mio problema e ha voglia di darmi una mano ed è vero che le mani possono essere, possono venire dai punti più disparati e più inaspettati e sono a volte gli aiuti più belli e più veri. Bellissimo, bellissimo questo spunto. Passiamo all'ultimo che forse è anche il più difficile che si ricollega anche un po' a quello a cui abbiamo appena accennato, il fatto di non abbattersi, di provare e poi riprovare e riprovare che è accettare di cadere. Esatto, accettare di cadere per me è stato di nuovo una cosa difficile perché mentre sull'organizzazione un po' ci sono nata e quindi mi prendo il merito solo in parte, accettare di cadere per me è stato difficile. Vi racconto un piccolo episodio, io al liceo ero molto brava, tutti 8-9 in un liceo classico difficile di Milano e alla fine però la pressione che mi sono messa addosso è stata eccessiva e quindi durante la maturità è successo di tutto e di più, quindi ho avuto febbre a 39, svenivo durante le prove scritte, mi sono spuntati i denti del giudizio, quindi avevo una faccia che sembrava un pallone, un disastro e naturalmente per quanto fossi brava non ero sovraumana e quindi le prove scritte della mia maturità sono andate maluccio. Quindi io già distrutta, quando sono arrivata a vedere i voti degli iscritti mi sono totalmente depressa, con questo apro e chiudo una parentesi sono uscita dalla maturità con 97 quindi non è che mi hanno dato un calcio nel sedere però per me è stata una tragedia e questa tragedia me la sono portata avanti nella scelta dell'università, quindi ad un certo punto è andata in crisi un po' il mio sistema di certezze e non sapevo più che pesci prendere e quindi l'estate fra la maturità e l'inizio dell'università non sapevo più che cosa scegliere. Ho perso 10 chili, non riuscivo a piangevo eppure quella è stato uno dei momenti credo più importanti e che rivivrei della mia vita perché mi ha insegnato a ritirarmi su, ero caduta per una cosa stupida ma mi ha insegnato a dire che così non sei andata da nessuna parte che bisognava ricominciare e quindi ho preso l'occasione al volo, ho riniziato scegliendo un po' un'università a caso nella quale ero stata ammessa ma lì ho ricominciato un percorso di crescita, di cammino e quindi mi ha insegnato a non arrendermi, a non lasciare andare. Chiaro ci sono delle cose che hanno aiutato, è stato un po' lì che ho iniziato a dover obbligatoriamente parlare con gli altri delle mie difficoltà, è stato lì che ho ritrovato l'importanza della forza di volontà, quando ero piccola la mia nonna mi diceva sempre che la forza di volontà è importante perché senza forza di volontà non vai da nessuna parte e io questo concetto astratto lo capivo fino a un certo punto e allora lei me lo rendeva molto concreto e mi diceva va bene la forza di volontà come tante altre cose si allena, non viene naturale, quindi alleniamo la forza di volontà. Se decidi che spegnerai la luce alle 9 e alle 9, io ero un appassionata di lettura e alle 9 sei a metà di una pagina del libro, allo scoccare delle 9 tu chiudi quel libro e ti metti a dormire, non importa non finisci il capitolo, non finisci la pagina, ti sei data un obiettivo e quello devi rispettare. Oppure mi diceva quando ti si chiama che stai giocando non dici aspetta che arrivo, ti alzi, lasci tutto quello che stai facendo e vai. Ed è vero che in quei momenti di difficoltà ho ricominciato da delle cose piccole, ho ricominciato non avevo fame, non mi piaceva più cucinare, cosa che per me era una grande passione, ho ricominciato da lì, ho ricominciato dicendo mi do un piccolo obiettivo e lo rispetto e ricostruisco la mia forza di volontà per andare avanti ed è stata una cosa che mi ha che mi ha aiutato molto, quindi allenate la forza di volontà perché ce l'avete, tutti ce l'abbiamo, bisogna solo ritirarla fuori. E la seconda cosa che mi ha molto aiutato è stato il buttarmi in situazioni sconosciute. Io sono piuttosto timida di natura, anch'io abbastanza introversa e quindi buttarmi in situazioni sconosciute con gente sconosciuta per me era molto difficile, però l'ho fatto, l'ho dovuto fare tanto quando sono arrivata a Parigi dove non conoscevo nessuno, dove avevo un lavoro nuovo e qua la vita, il lavoro personale sono molto molto separate quindi non si frequentano i colleghi e ho dovuto buttarmi e spesso sono caduta, sono caduta perché mi sono ritrovata delle serate da sola a fare delle cose che magari non mi piacevano, un po' guardata strana a tutti perché il mio accento francese era molto modesto eppure mi ci sono buttata con grinta e questo aiuta a non avere paura di quella caduta e soprattutto a trovare la forza l'energia per rialzarsi. Mi è piaciuto molto come hai parlato di partire dal piccolo, innanzitutto poi quando cadi almeno la mia sensazione, la mia esperienza è che è difficilissimo rialzarsi perché la tendenza, io sono un po', non so se tu sei come me, ma o tutto nero o tutto bianco, difficile che sia nel grigio, per cui o sono un drago e tutto e sono una macchina da guerra oppure se qualcosa all'improvviso mi fa lo sgambetto e faccio molta fatica a non mandare tutto in vacca proprio per usare un'espressione abbastanza diretta e lanciare tutto fuori dalla finestra. Però poi mi ricordo di aver letto questa metafora simpaticissima che si addice molto ai giorni nostri sullo smartphone, non è che se ti cade l'iphone o quella diavoleria che hai comprato da chissà quante centinaia di euro tu ti lo calpesti, no? Ci cominci a saltare sopra, spacchi tutto perché ormai è caduto. Cerchi, lo tiri su, di solito, no? Col panico dilagante cerchi di vedere se funziona, se si è rotto qualcosa, ecco e magari cominciare a trattare noi come trattiamo il nostro smartphone potrebbe essere un bell'inizio. Assolutamente. E poi mi è piaciuto tantissimo appunto il cominciare da una piccola cosa che forse è veramente la cosa più difficile, però allo stesso tempo, perché ovviamente vorremmo subito già rialzarci ed essere come nuove, cosa che è improbabile avvenga. Però poi tutti gli esempi che hai fatto, il buttarti con grinta nonostante le difficoltà, mi fa venire in mente proprio l'idea dell'allenamento, cioè lo fai una volta, lo fai due, lo fai tre, lo fai quattro, diventa un pochino più semplice. Assolutamente. L'ho notato proprio nei progetti lavorativi, all'inizio parlare con le persone era difficilissimo per me, tanto che mi dicevo, tanto ho scelto un lavoro dove sono su internet, no? Perché devo parlare con le persone? Sto dietro il mio schermo, faccio le mie cose, lasciatemi in pace. Poi però mi sono resa conto che, a parte che le persone sono la chiave nella nostra vita, le relazioni sono una chiave, è alienante pensare, no? Di escludere queste relazioni convinte, no? Che siamo, che non siamo portate per. E quindi ho visto che poi piano piano è diventato non solo più facile ma finalmente piacevole. Ed è quindi un po' allenare il muscolo della esplorazione dell'ignoto e dell'agire nonostante la paura. Assolutamente. Secondo me è tanto una questione di allenamento e tanto quello che scopri succede quando cadi. Nel senso noi abbiamo la tendenza a pensare di sapere esattamente dove vogliamo andare e di come vogliamo arrivarci. Però spesso la vita ci dà dei ceffoni e la cosa bella è scoprire che cosa succede a seguito di quel ceffone. Di nuovo, io quando mi sono ammalata improvvisamente ho dovuto tagliare a metà le cose che facevo. Non è facile per una persona iperattiva come sono dire, ok, da domani invece che fare dieci riunioni e poi mettere insieme un aperitivo, una cena, un dopocena, le riunioni devono diventare sei e posso fare una delle tre cose la sera. E questo per me è stato un grosso ceffone dalla vita perché non me ne capacitavo. Perché mi dicevo ma io posso farle tutte quelle tre cose, l'ho provato sulla mia pelle. Però che cosa è successo? Che improvvisamente quella cosa che facevo è diventata molto più ricca. Intanto la sceglievo con molta più accuratezza e poi diventava più ricca. Per cui le cene che ho fatto con delle amiche sono diventate delle serate meravigliose che mi ricorderò per tutta la vita. I momenti in cui sono stata a casa a godermi la mia casa, il mio libro, sono stati momenti molto arricchenti. Ho ricominciato a leggere, cosa che non facevo più. Ho visto dei film emozionanti che mi hanno arricchito e quindi quel ceffone mi ha fatto dire cavolo però guarda che cosa c'è dietro a quel ceffone. Credo che sia stato un bel insegnamento. Bellissimo. Martina, se dovessimo ricapitolare a grandi linee i punti del nostro blueprint, della nostra mappa. Abbiamo messo tanta carne al fuoco ma giusto per avere il nostro strumento da infilare nella cassetta degli attrezzi. Allora i tre punti. Il primo è fermatevi e capite che cosa è veramente importante per voi. Prendetevi il tempo di rifletterci. Il secondo punto è organizzatevi. Non annegate sotto l'onda di quello che vi succede. Non lasciatevi sciacquare via ma pianificate quello che volete fare. Il terzo suggerimento è accettate quella caduta perché non sapete quale mondo meraviglioso c'è dietro e quindi invece che disperarvi tiratevi su con grinta, rimboccatevi le maniche e ricominciate perché c'è sicuramente una grandissima ricchezza. E se posso aggiungere una piccola cosa che onestamente secondo me è il vero segreto della vita è sorridete. Anche quando non ne avete voglia, anche quando vi sembra che non ce la farete veramente mai, fate un bel respiro profondo e sorridete. Ho un'amica che è in sedia a rotelle per la sclerosi multipla ed è completamente paralizzata. Può muovere soltanto gli occhi e la bocca e parla, parla tanto e dice una cosa molto saggia che noi agli angoli della bocca abbiamo due elastici e che questi elastici ce la devono tenere su. Quindi nel momento in cui questi elastici si rilasciano e non tengono più bene sugli angoli della bocca bisogna cambiarli, bisogna ricaricarli. Quindi trovate la vostra ricarica, trovate quello che vi fa cambiare gli elastici e gli angoli della bocca ma tornate a sorridere perché è la chiave del vostro successo. Bellissima, mi hai fatto venire la pelle d'oca con questa chiusura bellissima perché poi i nostri migliori insegnanti, mi viene da dire, sono proprio le persone che ci circondano ogni giorno e noi andiamo a cercare chissà che cosa a volte. Martina, una domanda a bruciapelo per concludere, quale donna pensi dovrei intervistare dopo di te? Allora ci sono tante donne che mi hanno colpito ma c'è una ragazza che si chiama Sania e con cui ho lavorato per un breve periodo e che credo sia davvero una donna che incorpora tanti di questi valori e che potrebbe essere di grande ispirazione. Troveremo Sania e la porteremo ad Impact Girl. Io Martina ti ringrazio veramente dal cuore per questo splendido contributo, davvero è stato bellissimo. Grazie a te Cecilia, grazie. E ragazzi a chi ci ascolta o guarda dal blog vi ricordo che trovate tutti i punti suddivisi minuto per minuto sotto il video o sotto l'audio in maniera che potete trovare tutto quello che vi serve al volo. E noi ci vediamo come sempre alla prossima puntata. Ciao a tutte! Questo è tutto per la puntata di oggi. Spero di averti dato qualche utile spunto che potrai implementare sin da subito. Se crescere un business in cui credi sul web in modo autentico e proficuo è parte dei tuoi piani e non sei ancora entrata a Biz Academy, iscriviti alla lista d'attesa per ricevere lo splendido bonus che ho preparato per te e per sapere quando riapriranno le porte della nuova business academy italiana tutta al femminile. Puoi farlo senza impegno visitando il sito biz-academy.it. Noi come sempre ci sentiamo o vediamo alla prossima puntata di Impact Girl.